Ragazzuoli, ciao a tutti, ecco, oggi dato che non mi va di pensare già alla partita di domani a patto che si giochi perché comunque qui è sempre giusto e doveroso lasciare il beneficio del dubbio voglio parlare di un argomento nello specifico in un qualche modo posso farlo soprattutto grazie alla notizia che è uscita ieri perché come avrete letto pare che la Juventus sia sulla finestra lì come le vecchiette a guardare da lontano con le mani dietro la schiena rigorosamente la situazione legata ad Akan Cialanoglu perché è uno di quei giocatori in scadenza come già saprete ovviamente e pare poco intenzionato ad oggi attualmente a rinnovare con il Milan a causa ovviamente dello stipendio perché attualmente il giocatore percepisce 2 milioni e mezzo lui vorrebbe in sostanza quasi un raddoppio dello stipendio da quello che ho capito chiede 5 milioni e nel momento in cui il Milan magari non ha la possibilità insomma di arrivare a quella cifra lui dice ok aspetta aspetta probabilmente vado da un'altra parte e l'altra parte potrebbe essere a pochi chilometri da Milano appunto Torino ed ecco appunto il discorso è proprio questo il discorso ovviamente è proprio questo perché Fabione per favore già che in passato sei caduto in certi errori non cerchiamo di replicare perché dopo è cattiveria dopo ci si incaponisce e dopo non va bene ovviamente e non è un discorso legato prettamente a Cialanoglu è un discorso generale poi oh se tu ritieni Cialanoglu un giocatore sul quale fare affidamento perché è un giocatore congeniale al progetto Juventus dopo lì ovviamente è l'altro discorso io non so cosa dire se Cialanoglu ha quelle caratteristiche ideali per il gioco della Juventus ci può stare no effettivamente acquistarlo soprattutto se si parla magari di uno stipendio di 5 milioni per dire che abbiamo visto di peggio abbiamo visto e soprattutto abbiamo dato di peggio nell'ultimo periodo attualmente con 5 milioni un giocatore è ottavo tipo in classifica per quanto riguarda gli stipendi della Juventus è lo stesso stipendio diciamo di Quadrado, Chiesa, Arthur e Morata circa a grandi linee quindi esempio non andrebbe neanche troppo male ecco negli ultimi anni abbiamo dato vagonate di soldi a gente che probabilmente renderebbe molto meno di Cialanoglu però appunto il discorso che voglio fare io è non cadiamo nell'errore anche banale a una certa dopo tanti anni che lo commetti di dare soldi o di andare su giocatori solo perché ha parametro zero cioè onestamente anche meno la Juventus penso soprattutto poi dopo questa stagione avrà bisogno di giocatori funzionali non necessariamente a parametro zero poi se le due cose coincidono e ti dà la possibilità di risparmiare ben venga assolutamente questa non è una cosa negativa soprattutto nel momento in cui non hai un soldo e in un qualche modo devi risparmiare però veramente l'idea di puntare su determinati giocatori solo perché sono a parametro zero onestamente anche no cioè basta è una moda che non dico deve passare perché come ho detto prima dipende sempre poi chi vai a prendere però puntarli sempre tutti onestamente anche no ovvio che se mi dici guarda ci potrebbe essere la possibilità di prendere Donnarumma parametro zero ecco lì ovviamente ci pensi sai che lo stipendio sarà un problema però quantomeno è una logica di altro tipo ecco ci capiamo prendi un portiere abbastanza navigato che ha 21 anni quindi insomma non caschi proprio malissimo ecco poi dico la verità dopo c'è la no glue di per sé io posso capire che possa essere un profilo anche interessante se non sbaglio Paratici lo segue da quando era al Bayern Leverkusen quindi sapete bene o male come funzionano i pallini di Paratici questo è un classico lo sappiamo ormai tutti quanti dopo dieci anni che ha la Juventus però una cosa che mi viene da pensare al Milan è praticamente un trequartista gioca dietro l'attaccante nel 4-2-3-1 perfetto va bene magari come abbiamo detto prima a qualità di un certo tipo può sicuramente risultare più utile del Ramsey della situazione e ti andrebbe a prendere quasi la metà tra una roba e l'altra con il decreto crescita non proprio però insomma ci sia che prende abbondantemente meno via diciamo così prende un po' meno prende un po' meno poco poco quindi può essere che torni sicuramente magari più utile di un giocatore alla Ramsey per dire per portare un esempio di un parametro zero che è riempito di soldi allo stesso tempo però c'ha la Noglu con le caratteristiche che ha dove lo metti in questa Juventus più che altro perché noi per forza di cose ci dobbiamo basare di questa Juventus noi non sapremo che cosa ci regalerà il futuro a livello di moduli a livello di allenatore a livello di posizionamenti in campo ecco perché adesso è anche una moda dire così giustamente assolutamente quindi alla fine va bene c'ha la Noglu sicuramente un profilo interessante magari neanche particolarmente vecchio tutto quello che vogliamo va bene può essere eventualmente una buona operazione di mercato che ti tornerà utile sotto tanti punti di vista però ad esempio e qui dove lo metti lo metti magari al posto di Ramsey va bene però probabilmente gli chiedi di fare non tutt'altro ma anche altre cose e quindi magari si perde la funzionalità del giocatore di per sé è questo che vuole essere il mio discorso certo poi lo ribadisco vuoi prendere c'ha la Noglu va bene lo prendi lo prendi magari è un'occasione di mercato vai a prendere anche c'ha la Noglu però quanto ti torna utile effettivamente nell'atto pratico c'ha la Noglu eccolo lì il discorso che voglio fare io poi se ti torna utile se risparmi se è una chance di mercato della Madonna di prenderemo c'ha la Noglu a patto che ovviamente non rinnoverà col Milan perché poi qui si sta parlando ovviamente del nulla si sta parlando della notizia di per sé nessuno saprà bene se rinnoverà o meno e in caso se andrà la Juventus o meno si parla solamente della notizia per quella che è della notizia che è uscita dell'interessamento della Juventus per Cialanoglu perché pare ci sia questo problema legato al rinnovo del contratto quindi boh onestamente vedremo io invito ma è un discorso generale davvero Fabione Paratici a non commettere o cercare di non commettere più gli errori del passato magari evitando di riempire d'oro della gente che diciamo non se lo merita non dico che Cialanoglu sia uno di questi attenzione però dico facciamo attenzione facciamo attenzione perché una cosa che nell'ultimo periodo abbiamo pagato a cara pelle quindi nel senso errare umano perseverare diabolico non vorrei che la Juventus abbia preso la strada della perseveranza da questo punto di vista perché una volta ti va bene però a una certa e ultimamente non sta andando proprio benissimo detto questo ovviamente vedremo come si evolverà la situazione di Cialanoglu come si evolverà quella legata a tutti i parametri zero che sono ancora tantissimi anche molto bravi e quindi insomma vedremo il mio è un discorso generale spero l'abbiate capito e fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve A presto A presto A presto A presto